Sei pronta? Facciamo una nuova lezione. Ieri abbiamo fatto il risotto e oggi facciamo delle belle polpettine. Cosa mettiamo? Mettiamo il bianco dell'uovo, mettiamo un po' di sale, così rimane bello salato e saporito, un pezzichino di pepe, poi ci mettiamo qualche cubettino di prosciutto che diventerà una sorpresa nella polpettina di riso. Mischiamo tutto, non mettiamo il rosso così diventa più proteico come cibo. Una volta che abbiamo mischiato, guarda me, se no non impari. Dopo ti do una buonissima sorpresa. Per chi è stato attento ci sarà un regalino. Quindi prendo un po' di riso, lo prendo in mano, faccio una polpettina così e la metto nel pangrattato. No, 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 è giù! Giù, 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 giù e la metto qua. Anche se sono irregolari non fa niente. Poi prendo ancora un po' di riso, lo metto con le mani così e lo metto nel pangrattato e così via. E riempiremo il piattino di polpettine. Poi le cuciniamo dentro la frigitrice d'aria e così saranno più buone e salutari. Va bene? Adesso che siete state brave, mentre io finisco tutte le polpettine, vi do un regalino. Brave bimbe! Allora, uno la Manny, brava! Uno la Mela e la Tiffany Monella, anche per lei. Ci vediamo dopo. Le nostre polpette sono pronte, guardate che belle, l'attesa ne valsa la pena. Ci vediamo al prossimo video e buona serata e buon appetito a tutti! Ecco un premietto per te. Brava! Voto 10 e voto 10! Brave bimbe! Buon appetito! Grazie a tutti!